Ben ritrovati ai telespettatori di Prima TV e Telenostra. Da poche ore dal voto per le elezioni regionali, per il referendum confermativo e anche per la elezione di 12 nuovi sindaci e il rinnovo in Irpinia di altre tante amministrazioni comunali. Ultime ore di campagna elettorale, una campagna elettorale anomala per via del Covid. Il porta a porta, il contatto con gli elettori ma anche i messaggi attraverso i media. Che campagna elettorale è ed è stata? Lo chiediamo intanto a Giovanni D'Ercole, candidato con Fratelli d'Italia al Consiglio regionale. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. È stata una campagna elettorale molto atipica, indubbiamente. Non è stata la campagna elettorale dei comizi di piazza. Quella campagna elettorale che agli uomini della destra tanto piace, perché noi siamo persone abituate e innamorate del confronto e del dibattito. C'è stata una campagna elettorale asettica, direi, proprio come quello che dovrebbe essere in generale, perché il contatto fisico è stato molto, molto limitato. C'è stata la possibilità di fare qualche incontro, sempre con i noti distanziamenti e poi molto si è svolto, indubbiamente, sulle piattaforme social, con Whatsapp, con le telefonate. Diciamo, veniamo da ore e ore di chiacchierate al telefono. Insomma, questo è lo stato dell'arte di questa campagna elettorale. Le persone che ha ascoltato in questa campagna elettorale, che cosa le hanno ripetuto più spesso e quale impegno Giovanni D'Ercole ha dato loro in vista di una elezione, nel caso a Palazzo Santa Lucia? Io innanzitutto ho contattato gli amici di sempre, quella splendida comunità umana e politica della destra irpina che, devo dire, si è stretta attorno alla mia persona, consentendomi di dire che ho già vinto, perché già il solo fatto di poter riabbracciare i tanti amici che sono parte della mia crescita politica ed umana, ma già questo mi ha già appagato abbondantemente, cioè qualunque sia il risultato, io sono già felice di come è andata la campagna elettorale. Ciò detto poi, ho incrociato anche le istanze di pezzi di portatori di interessi della nostra provincia. Allora, le istanze che provengono dal territorio sono innanzitutto quelle connesse allo spopolamento, cioè più volte incontrandomi nelle aree interne, mi hanno detto che tutta questa strategia delle aree interne, nella quale si riempie la bocca ad Emita e qualche altro soggetto, è assolutamente fuffa perché a noi aree interne nulla è arrivato, qua ci spopoliamo continuamente, pezzi di gioventù vanno via. Allora, con loro ho ragionato su come dovesse essere invertita questa rotta. Mi sembra evidente che questa rotta si inverte utilizzando tre leve, quella della sanità, quella del trasporto pubblico locale e quella della formazione, l'offerta formativa. Quindi una ristrutturazione dell'offerta sanitaria che non può essere quella degli ultimi cinque anni, dove non soltanto non si è migliorata la situazione dei precedenti cinque anni, che venivano però dal disastro bassoliniano. Caldoro ci ha costretti tutti quanti noi campani a dover fare un po' a stringere la cinghia perché si veniva da una situazione drammatica e ci siamo dovuti trovare ad applicare il piano commissariale Bassolino-Zuccatelli, che ha visto anche scelte drammatiche, quali quella della chiusura dell'ospedale di Bisaccia. Grazie a quei sacrifici fatti, in questi cinque anni dovevamo riprogettare da zero la sanità, in particolare nelle aree interne. Invece nulla è stato fatto... De Luca rivendica l'uscita dal commissariamento. Ieri ha dato Caldoro e si dimostra De Luca un cialtrone quando non ammette questo, quando non riconosce all'avversario quello che è stato fatto in precedenza. Non solo, De Luca è anche lo stesso che ha fatto perdere negli ultimi cinque anni circa 300 milioni alla sanità campana, perché abbiamo mandato al nord altri soldi, proprio perché non è stato capace di fornire un'assistenza adeguata. È stato capace però di fare una cosa, De Luca, di essere il presidente della regione che ha speso di più durante il Covid. Cioè noi per la sanità pubblica campana abbiamo speso 373 milioni, molto di più di quanto non si è stato speso in Lombardia, che oggettivamente ha avuto una situazione molto più difficile, ma è il costo per contagiato che è ancora più significativo. In Lombardia sono stati spesi 5500 euro per contagiato, in regione Campania quasi 80 mila euro per contagiato. Questi numeri la dicono lunga sulla incapacità della gestione, non solo, dicevo, sanità. L'ospedale di Solofra, che è chiuso, il pronto soccorso di Solofra è chiuso, è una vergogna tutta targata De Luca. I livelli di assistenza certificati che ci vedono scendere sempre di più nella graduatoria nazionale, siamo all'ultima regione per livelli di assistenza. E poi trasporti pubblici locali. Io chiedo a De Luca, anziché di farsi i confronti con De Mita, di fare qualche confronto con i pendolari che utilizzano o devono utilizzare i mezzi dell'AIR, in che condizioni viaggiano, con i mezzi che tante volte sono fermati sull'autostrada, facendo perdere a pendolare l'orario di ingresso in ufficio o la lezione all'universitario. E poi la formazione. Non possiamo pensare di mantenere il nostro popolo nel nostro territorio se non c'è un'offerta formativa adeguata. Cosa vuol dire fare l'ennesima università di giurisprudenza d'Avellino? No, questo non serve. Tra l'altro ormai con le università telematiche c'è poco significato a far questo. Ma è necessario introdurre un'offerta formativa che incroci le eccellenze del nostro territorio. E allora mi sembra logico che una facoltà di agraria non possa non avere sede nella nostra città, nella nostra provincia. O anche facoltà di ingegneria, visto che noi abbiamo una serie di meccanica di eccellenza nella nostra provincia, anche una facoltà di ingegneria meccanica. Insomma, dobbiamo capire qual è la vocazione della nostra provincia e cercare di farla sposare con la formazione. Ecco, credo che con queste tre leve sia possibile combattere lo spopolamento. Ma devo dire anche un'altra cosa, perché poi è stato frutto di un confronto negli ultimi giorni. Io vedo un totale disinteresse dell'amministrazione regionale rispetto a questioni che dovrebbero essere prioritarie per ragioni morali. Mi riferisco ad esempio alla questione della disabilità, alla questione dei ragazzi autistici. La regione Campania, solo pochi giorni fa, ha speso quasi 5 milioni di euro per fare una struttura a Sant'Angelo dei Lombardi. Abbiamo già qua il centro autistico che stenta a decollare. Se avessero ascoltato le famiglie dei bambini e dei ragazzi autistici, avrebbero capito che l'esigenza non è quella di avere contenitori, perché l'esigenza di queste famiglie è quella di avere cure specialistiche presso le proprie abitazioni. E invece non si riesce ad ottenere questo, anzi queste famiglie sono costrette a ricorrere ai tribunali per ottenere poi il pagamento di prestazioni che costano parecchio, ma nel frattempo noi buttiamo soldi per contenitori inutili. O anche nelle scuole, il tema è di stretta attualità. O anche nelle scuole. Fratelli d'Italia, partito identitario in una competizione che vede tante sigle, tante liste, anche di ispirazione civica o le liste del presidente. C'è, le chiedo, anche una competizione interna rispetto al centro-destra e ovviamente anche nel centro-sinistra per il primato tra i partiti identitari che sostengono con il simbolo il candidato Stefano Caldoro. C'è anche questa partita nella partita? La competizione è una cosa sacrosanta, una cosa sana, è evidente che chi si candida vuole ottenere più voti possibile e dunque vuole primeggiare all'interno della propria coalizione. Credo che Fratelli d'Italia abbia tutte le carte in regola per essere stavolta il primo partito della coalizione, ma ripeto, è una competizione assolutamente leale, assolutamente sana. Siamo una squadra, tra l'altro siamo in gran parte una squadra politica, cioè le liste che sostengono Stefano Caldoro sono liste che hanno una loro significazione politica, c'è la Lega, c'è Fratelli d'Italia, c'è Forza Italia, c'è l'Udc con il Partito Socialista, sono gruppi che rappresentano una tradizione politica. Dall'altro lato invece abbiamo le cosiddette associazioni temporanee di candidati, cioè che vuol dire la lista civica a sostegno del Presidente? La lista civica può avere un senso alle comunali, laddove persone che hanno sensibilità differenti in un comune di 2, 3 mila, 4 mila abitanti decidono di mettere da parte le appartenenze e di individuare un candidato sindaco che non appartiene a nessun partito e di governare insieme. Ma di fronte a un Presidente uscente, quale De Luca, che è soggetto tutto del Partito Democratico, anche se lui cerca di farlo dimenticare, nonché genitore di un parlamentare del Partito Democratico che sostiene il governo giallorosso? Beh, mi sembra ridicolo ipotizzare liste civiche, sono associazioni, pezzi di elettorato, pezzi di interesse che si mettono insieme per cercare di ottenere uno, mezzo seggio, tre quarti di seggio. Ora, io chiedo questo ai cittadini che in questi giorni andranno a votare. Consideriamo che su 15 liste presentate dal Governatore, 13, 12 otterranno almeno un seggio. Governare un Consiglio regionale con 12 gruppi vuol dire governare un Consiglio regionale ingovernabile. Ci sarà un costante ricatto, un costante veto incrociato di questo o quel gruppo per ottenere qualcosa. Dall'altro lato invece c'è una proposta politica seria, corretta, trasparente e coesa. I cittadini hanno la possibilità di scegliere se dare voti, se dare consenso a quella cultura del veto incrociato, a quella cultura del ricattuccio politico, a quella cultura del potere per il potere, oppure se dare consenso a una coalizione che si presenta in tutta la sua serena compattezza e che è anche la coalizione che è opposizione al Governo nazionale. Siamo un attimo sul meccanismo di voto perché non quello delle elezioni che è un po' un rompicapo e vedremo poi che cosa diranno le urne. Ma intanto i nomi dei candidati, i nomi e cognomi bisogna scriverli sulla scheda per poterli votare e ancora c'è anche questo meccanismo per l'elezione in Campania del voto disgiunto. Ne ha parlato lei con i suoi elettori? Ma capita qualche volta di avere richieste di questa natura. Io ovviamente ritengo il voto disgiunto un voto non logico. Chi mi vota, mi vota perché sa che sono del centrodestra, quindi mi sembra logico che debba votare anche il mio Presidente. Ovviamente è necessario comunque scrivere il cognome, questo è chiaro, lo diciamo agli amici, scrivere il cognome della preferenza che si vuole indicare, quindi barare il simbolo di Fratelli d'Italia e votare d'Ercole, scrivere d'Ercole. Ovviamente la legge prevede che basti questo affinché il voto vada al mio candidato Presidente. Il voto disgiunto è un voto molto pericoloso perché ha poca politica e in qualche caso rischia anche di far annullare il voto. Che cosa cambia poi nel centrodestra il giorno dopo le votazioni anche in provincia di Avellino? Queste regionali come incideranno eventualmente nella organizzazione o riorganizzazione del centrodestra sul territorio provinciale? Ovviamente aspettiamo i risultati per tirare le somme, per fare una valutazione. È chiaro che essendoci delle liste di partito presentate è possibile fare una valutazione delle forze in campo, del consenso che raccoglie ogni forza politica. Credo che rispetto a cinque anni fa ci saranno dei veri e propri stravolgimenti. Dubito che il partito di Berlusconi possa ottenere i risultati che ebbe cinque anni fa. Tra l'altro cinque anni fa aveva un frontman di eccezione, che era il compianto Pietrofoglia, d'altro canto non esisteva la Lega, Fratelli d'Italia era in una fase embrionale, quindi in questi cinque anni davvero c'è stata in mezzo un'era geologica e quindi ci sarà un riassesto del centrodestra. Io mi auguro che Fratelli d'Italia possa avere in mano la possibilità di guidare questa coalizione, non ci è mai capitato, ci crediamo fermamente, abbiamo intenzione di rivoluzionare l'assetto provinciale, ma in senso positivo, cioè dando una ventata di coerenza, di trasparenza, di chiarezza. Non ci piacciono le soluzioni ammacchiate, non ci piacciono le soluzioni dove non si capisce da che parte si sta. L'attività politica deve essere improntata a una scelta di campo netta, o si è destra o si è sinistra, o 5 stelle per chi vuole aderire alle proposte di 5 stelle. Ecco, ma qual è la contraddizione politica più rilevante di questa campagna elettorale dal suo punto di vista naturalmente, osservando il panorama delle liste e dei candidati? Le contraddizioni nell'altro campo sono spettacolari. Noi abbiamo candidati che sostengono lo stesso Presidente della Regione, lo stesso De Luca, che se ne dicono di ogni colore, in ogni momento della giornata, con post infuocati. Insomma, se anche quando si fa finta di stare insieme, cioè nel momento del fidanzamento, si è così pungenti, figuriamoci cosa succederà dopo le elezioni. Non solo vedo e ascolto candidati del centro-sinistra che si propongono come alfieri del cambiamento, ma per cambiare cosa? Sostengono chi è uscente. Se volete cambiare dovete far votare chi sia opposto all'uscente, non a chi in questo momento governa. Noi vogliamo cambiare questo governo regionale perché riteniamo che sia stato un governo assolutamente inadatto, un governo talmente inadatto che a febbraio di quest'anno neanche il Partito Democratico voleva candidare De Luca. Poi De Luca è stato bravo a investire decine di migliaia di euro nelle sue dirette social, decine di migliaia di euro dei cittadini campani, a investire milioni di euro dei cittadini campani, dei fondi europei che non era stato capace di distribuire, dando prebende da 1.000-2.000 euro alle varie categorie, sostanzialmente acquisendo un consenso solo ed esclusivamente in questa maniera. Per cui credo che se questo è quello che piace a questi candidati devono avere il coraggio di dirlo e soprattutto devono avere il coraggio di raccontarci, visto che lo sostengono, cosa ha fatto questo Presidente in questi cinque anni. L'altra contraddizione evidente è quella di qualche soggetto che ha avuto grandi benefici elettorali dalla centrodestra e adesso lo vediamo impegnato in altri lidi a fare voti per il centrosinistra. Ma io credo che l'elettorato sia ormai alquanto maturo per punire questi trasformismi, per punire chi si barcamena. Non c'è più voglia di ascoltare queste incoerenze e queste contraddizioni, d'altronde non è strano il fatto che l'elettorato stia punendo il Movimento 5 Stelle proprio per le giravolte che ha fatto tramite la piattaforma Rousseau. Uno dei temi di cui forse si parla poco ma è molto avvertito insieme allo spopolamento è sicuramente il tema del lavoro, il tema della prospettiva occupazionale, peraltro in tempi difficili di pandemia. E chi ci ascolta immagino voglia sentire anche da chi si impegna, e Vercole è sicuramente uno di questi, in politica per passione e per competenza, qual è la prospettiva per il rilancio anche dal punto di vista occupazionale di una provincia che soffre? Prima di questo devo fare una premessa, è indegno quello che sta avvenendo in queste ore rispetto al problema lavoro, cioè rispetto al bisogno di tante famiglie, di tanti giovani, di tanti padri, vedere lo sfruttamento indegno, sceno di questo bisogno da parte di soggetti senza scrupoli che promettono il lavoro in cambio del voto, vedere aziende che in questi giorni stanno assumendo per un mese decine di persone a contratto a tempo determinato, senza che neanche la Procura della Repubblica di Avellino, si preoccupi di verificare come mai accadono queste cose, queste sono cose davvero... Parla di aziende private o aziende pubbliche? Aziende private, ma parliamo anche di aziende pubbliche che hanno qualche mese fa acquisito una serie di tirocinanti e allora credo che su queste cose anche le forze inquirenti dovrebbero accendere un faro grande, perché se siamo arrivati a questo livello, se siamo arrivati a questo punto di indecenza è anche perché probabilmente nessuno è intervenuto con forza per combattere quello che è un reato e si chiama voto di scambio e questa è una premessa doverosa. Detto questo è chiaro che una politica che fino adesso ha governato questa provincia e questa regione, attraverso il mezzo del ricatto del lavoro che te lo do io, non aveva nessun interesse a creare meccanismi di sviluppo, perché lo sviluppo, il lavoro che io ottengo attraverso il merito, attraverso la possibilità che viene data a tutti, libera le coscienze, libera il consenso, invece in questa provincia il consenso deve essere costantemente controllato, perché proveniamo da una cultura che è quella, allora sappiate che se vogliamo immaginare politiche di sviluppo, soltanto il centrodestra può proporle, perché il centrosinistra non ha interesse, il centrosinistra ha interesse a lasciare la situazione attuale, perché in questa maniera può continuare a gestire il consenso attraverso il bisogno. Basta pensare questo, nei cinque anni passati i due terzi dei fondi europei arrivati in cammino, campagna, per lo sviluppo della campagna, sono tornati indietro, sono numeri che sono incontestabili, allora credo che su questo i cittadini debbano riflettere seriamente in questi giorni, prima di andare alle urne, prima di cedere nuovamente per cinque anni il governo di questa regione a soggetti davvero incapaci che politiche di sviluppo non sono in grado di fare. Siamo quasi in chiusura, affermazioni rilevanti quelle di Giovanni D'Ercole che tra l'altro è un avvocato e quando parla di ipotesi di reato in alcuni tirocini, ora lasciamo stare le aziende private perché probabilmente lì l'imprenditore può fare o disporre, quando parla di aziende pubbliche qui il tema diventa... Prendo tutte le responsabilità di quello che dico, sono pronto ad andare in procura appena mi chiameranno, con piacere lo farò. Parlando di lavoro, De Luca ha dato il via al piano lavoro e all'assunzione di persone per irrobustire la macchina amministrativa e le pubbliche amministrazioni, quella è una cosa buona? De Luca è la dimostrazione di come sia egli proprio il cliché del notabilato meridionale, di quello che deve assumere nei posti. Non si è preoccupato per 5 anni e mezzo di creare condizioni di sviluppo affinché la nostra regione crescesse e poi si è inventato un concorso farlocco per 10.000 posti. Vogliamo dire cosa sono questi 10.000 posti? Sono 10.000 corsi di un anno, pagati credo un migliaio di Euro al mese, dopodiché questo corso che questi 10.000 soggetti che hanno partecipato, che sono i risultati vincitori di centinaia di migliaia di persone che hanno partecipato a questo concorso, questi 10.000 soggetti concluderanno questo corso e non è che il giorno dopo prenderanno servizio, no, il giorno dopo verranno salutati perché entreranno in una graduatoria dalla quale i comuni se vogliono possono attingere, punto. Quindi questi 10.000 tirocinanti sono semplicemente, tanto è vero che questi fondi con i quali verranno pagati sono i fondi della formazione, cioè stanno sfacendo un corso di formazione di un anno, basta. Non è un irrobustimento della nostra pubblica amministrazione, anche perché la Regione Campania non ha competenze in materia, la Regione Campania può assumere per sé, ovviamente, i dipendenti regionali vengono assunti in Regione Campania, devo anche dire che in qualche ente regionale, a cominciare dalle ASD, su qualche assunzione si potrebbe anche là accendere qualche faro bello grande su come sono avvenute, ma al di là di questo la Regione Campania ha competenza sull'acquisizione di dipendenti della pubblica amministrazione, sono competenze, ovviamente, il Ministero della pubblica amministrazione, il Ministero dell'interno, se parliamo dei comuni o dei ministeri, laddove si deve assumere le pubbliche amministrazioni. Quindi è un altro tentativo per tenere compresso un consenso attraverso l'elargizione. Questo è null'altro, è questo grande concorso. Io aspetto le persone appunto che adesso, magari poveretti con speranza, iniziano questo percorso, le aspetto tra un anno per dire, vedete, ve l'avevo detto. Vercole, siamo in chiusura. Non possiamo parlare di sondaggi, non possiamo parlare di quindi prospettive elettorali, ma ascoltiamo tanti appelli al voto utile o inutile a seconda di chi elabora strategie e previsioni sui risultati. Qual è il suo di appello finale al voto? Io credo che il voto utile sia il voto dato alla coerenza, il voto dato alla competenza, il voto dato a chi non ha mai tradito né i propri ideali né gli impegni che ha preso con i propri elettori. Parlo per me, ovviamente personalmente, per la mia storia personale, ma parlo anche per il partito che rappresenta, per Fratelli d'Italia. Credo che non ci possa essere maggior coerenza tra candidato e partito che rappresenta. Il voto utile è il voto utile agli Irpini e alla Campania. Io sono una persona nata e cresciuta nella città di Avellino, ho condotto le mie battaglie ad Avellino, nella provincia di Avellino, sempre senza nessun tipo di condizionamento, in libertà. Sono un rappresentante di chi ha saputo ribellarsi alla cappa di potere che c'è sempre stata in Irpigna e con la stessa forza voglio essere al fiere di una rivoluzione di libertà in provincia di Avellino del 2020 nella regione Campania. Grazie, D'Ercole, in bocca al lupo ci raggiorniamo più avanti naturalmente. Grazie a voi. Grazie a quanti lavorano dietro alle telecamere e buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Grazie a tutti.